Qualche mese fa c'è stata un'operazione che ha coinvolto l'ambiente estrema destra con un sequestro d'armi che ha toccato anche il nostro territorio perché alcune armi sono state sequestrate anche in provincia di Varese. Quale fotografia avete su questi rigurgiti neonazisti in Italia e qui da noi anche in provincia di Varese? Per fortuna da noi il fenomeno, al contrario di quello che abbiamo assistito anche recentemente in altri paesi, soprattutto la Germania, sono fenomeni ancora embrionali che ovviamente sono gioco nei nostri controlli sui quali non appassiamo la guardia ma credo non si debba nemmeno creare un ingiustificato allarmista.